Fuori la Regione, a Palazzo dell'Emiciclo, le associazioni che vogliono salvare la riserva del Borsacchio di Roseto, dentro gli incontri alla presenza del Sindaco di Roseto, la Commissione, il Consiglio, l'ultimo prima delle elezioni regionali, l'ultima chiamata insomma. Il blitz della maggioranza del 29 dicembre con un emendamento cancella riserva, così è stato definito, non è stato gradito alle associazioni in primis, ma anche alla minoranza in Consiglio regionale e la maggioranza, seppur con una timida apertura, fino ad oggi ha praticamente respinto. Nel frattempo si sono raccolte molte firme a tutela di quella che è sempre stata considerata una vera ricchezza del territorio. Stiamo parlando del, più che una riperimetrazione, di una cancellazione, perché da 1100 ettari si arriva a 24 ettari, sostanzialmente viene cancellata tutta la fascia collinare, che invece è un'area molto importante, come ha dimostrato la stessa Università dell'Aquila, dal punto di vista naturalistico, facendo delle osservazioni della Regione, che noi speriamo voglia accogliere. Che nella forma c'è assolutamente del dolo, perché non si discute una cosa così importante di notte con un emendamento appunto ingannevole, come abbiamo visto, c'è la memoria di registrata che ci aiuta e quello che stiamo tra l'altro ascoltando adesso, nelle ultime ore, è addirittura un ripensamento, quindi vuol dire che anche la stessa maggioranza comprende che qualcosa è stato sbagliato. Non comprendo perché non si poteva fare un discorso diverso, un confronto civile, in Commissione e in Consiglio, come si fa per tutte le questioni importanti che approdano in Consiglio regionale. La maggioranza non intende snaturare quello che è stato l'emendamento e questa pare la linea, ma bisogna ascoltare il territorio. La politica deve sempre ascoltare le richieste dei cittadini, delle associazioni, su questo non c'è dubbio. Poi abbiamo coscientemente votato quell'emendamento perché siamo convinti che ci sia da fare una riflessione sul tema generale perché insomma un discorso è la perimetrazione fino al tracciato ferroviario, un discorso è allargare così come era in passato. Sappiamo che abbiamo ascoltato appunto anche gli agricoltori che sul tema avevano delle idee diverse, quindi ovviamente tutte quelle che sono le riflessioni che sono da fare sul punto si faranno. non snaturando io credo dal nostro punto di vista quella che è l'impostazione che è venuta fuori da quell'emendamento, però è ovvio che dobbiamo ascoltare tutte le voci, tutte le campane e fare delle riflessioni in maggioranza sul tema generale.